Mi pare di no, oppure si? Beh... Non so sicuro, che ne so, non sento niente. Gli hanno fatto una sola nella panza che va fino a giù in cantina. Allora è morto. È ancora vivo, ma può essere che muore. E se non muore? È meglio per lui. Ma è peggio per loro, se Campa parla, dici che è stato. E allora? E allora deve morire. E beh, speriamo. No, speriamo. Deve morire, subito. Eh no, eh. Io l'avevo avvertiti. E cali la rivoluzione, un fregnone stesso per terra che non è manco morto. E moche voi da me, un'altra volta andranno a scuola di cortello. Non ci sarà un'altra volta per loro se non muore. Lo devi fare te. Io? Ma non ci penso per niente. E allora lo faccio io. Lascia perdere, giudì. Quello è il lavoro da omini. Chi è? Che? È il lavoro da omini, no? Ma ci sono omini e omini. Io sarei capace di farlo a callo, figura da freddo. Zitta. Che? I cavalli. Quali cavalli? I dragoni. Cori, giudì, ci sono i dragoni. Cori. Dov'è, imbecille? Cori. Cori. Cori.